Siamo con un compito che avevamo, vero? Allora, l'esercizio numero 4 della pagina 11. Roberto sarai Lorenzo e Patrizia sarà Beatrice. Siamo fortunati! Perché? Cosa è successo? Finalmente sono riuscito a trovare gli appunti della letteratura che cercavo. Che bello! Chi te li ha dati? Me li presterà oggi Valeria. Sono quelli di Claudio, ma lo sai che lui ha preso 30? Davvero? Non lo sapevo. Io mi accontenterei anche di un 25. Comunque, li darai anche a meno? Veramente, Valeria non mi può dare tutto. Mi porterò solo le pagina sul romanticismo. Mi porterà? Mi porterà solo le pagina sul romanticismo. 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 Questo certo te lo darò. Certo che... Che te lo darò. Ah, occhio lì, non c'è nessun te lo darò. Perché non è questo, ma queste. Stiamo parlando delle pagine. Te lo darò. Te lo darò. Ah, non so. Dice qua. Te le darò. Te le darò. Ah, te le darò. Già. Te le darò. Previsare. Te le darò. Anzi, faccio una copia anche per te. Benissimo. Sai, anche Sabrina avrebbe bisogno di questi appunti. Ne potrebbe fare uno anche per lei? Ne potresti, dice. Ne potresti fare. Ah, per voi. Ne potresti. Sì, ho letto male. Va bene. Alla fine mi sa che tutti studieremo... Studieranno... Studieranno... Studieranno sui appunti di Claudio. Al posto suo io li pubblicherei. Perfetto. Un parto. Leggere tutto. Bene. Allora, c'è... Il verbo prestare viene da prendere, certo? Lui ha preso 30, certo? Ah, perché sono due verbi diversi. Uno è prestare. Sì. Hai parlato di prestare che avrebbe il participio prestato. E invece il verbo prendere che ha il participio preso. Sì. Sì. Ese preso o preso 30... Quando uno prende otra cosa, per esempio, o preso, me trage un vestido... Agarré algo e me lo trage. Sì, sì. Prendere significa tomar. Prendi questa mano. In tutte le forme possibili. sempre tomar. In tutte le forme che abbiamo nello spagnolo e anche di più perché il verbo prendere in italiano può funzionare anche come sinonimo di comprare. e ho preso un caffè. Ho preso un caffè. Ho preso un caffè. Sono andato al supermercato e ho preso il sale. Sempre. Ti hanno usato come faccio. Ho preso il Covid. Ho preso il Covid. Ho preso il Covid. Adезжire in una forma di più corretta. Ah... Sì, fermato di Covid. Sì, mi ho fermato di Covid. Infermato. Non so in quale lingua. No, no, no! Mi ho fermato. Ammarsi. Ammarsi. Fermato è del verbo fermare e parar. Io mi sono ammalato di Covid, tu ti sei ammalato di Covid, mi sono contagiato. Perfetto, grazie. Comunque lo utilizziamo per agarrar, tomar, agarrar, comprar, beber. Anche mangiare. Esatto, come in spagnolo quando noi tomamos el tren, tomamos la micro, in italiano prendiamo il tren, prendiamo l'autobus. Anche io posso dire come mangiare, prendo un panino, per pranzo prendo un panino. È uno dei verbi più utilizzati perché funzionano in moltissimi, moltissimi casi. Giuseppe? Sì. Sì, ho un dubbio. In quella frase che dice, finalmente sono riuscito a trovare lì, lì appunti, con GLI, perché si usa lì e non lì? Perché è un articolo? Lì per lui? Per lui? No, non è un pronome, è un articolo. Così come gli uomini usano lì, gli appunti usano lì. Posso dire? Posso dire? Sì, ti sto aspettando così mi spieghi, così ti posso aiutare. Sì, lì, capito. E l'altra frase, che bello, chi te li ha guati. Quello è un pronome. Quello è un pronome. Che ti ha dato gli appunti. Questo sarebbe il pronome. È un pronome, esatto. Il pronome diretto. A chi? A te. A te. Che cosa? Gli appunti. E questo sarebbe un pronome diretto. Il te è indiretto, il li è diretto. Il li è diretto. Ah, avevo una gran confusione. Ok, grazie. Prego. Profè? Sì? Sì. Hay tre cose che è il conunque, il alzare, il conunque quando lo ocupa qui. Il conunque significa in tutto caso. E il alzi significa in cambio. Ovv достare. No mediterà ne l'acienda. e l'altro? Mi sa sarebbe come lo stesso dire credo, creo, creo che Mi sa che tutti, credo che tutti Potrebbe funzionare con a lui, a lui gli sa, ti sa, però è un po' strano perché si usa per opinioni, allora sono opinioni generalmente proprie Non parlate tutti insieme, che non si capisce Quando lei dice lo sai che, se entiende come lo sai Exacto, se entiende, sabes che Calù e poi José, Calù? No, era lo mismo, che salì ahi más abajo lo sai Ah, lo sento, lo ho già dicito Va bene, José? No, io non mi ricordo della grammatica spagnola, se che il su è una preposizione Su è una preposizione, sì Ah, o sea, su, gi è una preposizione con un... Una preposizione articolata, su più gli sugli Grazie cari mille Prego Più domande? No No Por il momento? No Bene Ok, allora, vediamo un po', adesso vedremo la famosa materia Ok Ehm, come si chiamava questo? Claudio Da Gli appunti A me Io Presterò Le pagine Allora, quando io dico Claudio Claudio da Gli appunti A me Quale sarebbe il nostro Complemento Diretto Lì Complemento Diretto Ah Il diretto Gli appunti Gli appunti Non è lo stesso il pronome che il complemento Allora, il complemento è Gli appunti E il nostro complemento indiretto A chi A chi A chi è la domanda Però in questa frase Claudio Gli appunti A me Quale sarebbe il nostro complemento indiretto in questa frase? A me A me A me Allora, adesso sì Quale Quale Pronome Usa Gli appunti? Lì Lì Adesso sì Lì Adesso stiamo parlando di pronomi E invece A me Che pronome usa? Che è uno indiretto? Un me Mi Il pronome è mi A me Che cosa? Ok Invece quando io dico Io presterò Le pagine A te Quale sarà Quale è il mio complemento indiretto? Te Te A te Ti Ti A te Te Stiamo parlando di Non ti Perché ti è un pronome Vi sto chiedendo il complemento Non il pronome Il complemento è A te Ok E invece Il complemento diretto? Le pagine Le pagine A chi? Indiretto A te Che cosa? Diretto Le pagine Adesso sì Parliamo di pronomi Quale è il pronome per A te? Ti Ti Esatto E il pronome diretto per Le pagine? Le Le Allora Torniamo alla prima frase Claudio Dà gli appunti a me Mi ha detto che L'indiretto è mi E il diretto è E li Ho due pronomi Uno indiretto E uno diretto Ma Se lo vediamo Nelle frasi Non dice Mi li Come dice Nel testo che abbiamo appena fatto Invece di Mi li Che cosa c'è? Me 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 li E lo stesso succede Con la combinazione di Ti Più Le Non è ti Le Come sarà? Te le Me li Te Te le Te le Benissimo Allora Che cosa abbiamo qua? Abbiamo Questi si chiamano Pronomi Combinati Significa che io sto combinando Un pronome indiretto Con un pronome diretto Per parlare direttamente Di Che cosa E A chi Tranquilli che lo vedremo poi con calma Che cosa è a chi? Esatto Che cosa è a chi Però tranquilli che lo vedremo con più calma Quella era solo un'introduzione Già Grazie Perdona Era Ti Ma le E Te le Però tranquilla che lo vedremo con più calma Lo vedremo di nuovo Già Era solo un'introduzione Si chiamano pronomi Combinati Combinati Ok Dice qua Nel dialogo introduttivo Abbiamo visto le frasi che seguono Spiegate brevemente Come nell'esempio A che cosa si riferiscono i pronomi In nero E in blu Allora Nella prima dice Te li Avrei Dati Volentieri E noi dobbiamo capire che cosa significa quel te li A te Gli appunti Gli appunti Gli appunti In italiano Esatto Allora Quando dice Gli ho dati Proprio stamattina Vi ricordate A chi A chi ha dato A lei A lei Benissimo A lei E che cosa ha dato a lei stamattina Gli appunti Gli appunti Sempre gli appunti Stiamo Invece Lorenzo dice Me li potresti dare A chi potresti dare A me A me A me Che cosa Gli appunti Gli appunti Sempre gli appunti Perfetto Invece queste Te le posso prestare A chi A te A te E che cosa Le pagine Le pagine Benissimo Allora Lavoreremo molto con questo Con queste due domande Andiamo al Word Datemi un secondo E adesso sì Vediamo con calma I pronomi Combinati Ok Allora Un pronome Combinato E la somma Sì Di Il pronome Indiretto Più Il pronome Diretto Occhio In quell'ordine Prima il pronome Indiretto E poi il pronome Diretto Sempre 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 Allora Ricordiamo sempre Quali sono Le domande Le forme Che abbiamo noi Per capire Quale è Il nostro Pronome Diretto E il nostro Pronome Indiretto Allora Quali erano le domande Per il pronome Indiretto Per sapere Qual è il nostro Complemento Indiretto A chi A chi A che cosa A che cosa Perfetto E invece per sapere Quello Diretto Chi Chi Che cosa Che cosa Sono praticamente Le stesse Quasi la stessa Domanda Solo che Quello indiretto Dobbiamo ricordare Sempre che usa La preposizione In questo caso A Noi stiamo lavorando Solo con la preposizione A Bene Allora Sempre 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 Che faremo Esercizi Che Che praticheremo Faremo queste domande A chi E No In spagnolo No Non c'è nessuno In spagnolo È la stessa Domanda Ma noi Non abbiamo Una differenza Tra Il pronome Diretto E indiretto Nella domanda Perché noi Usiamo sempre A In In spagnolo Il pronome Il complemento Diretto E quello Indiretto Usano A In italiano No In spagnolo Usano sempre A Grazie Ok Allora Bene Ovviamente Noi Conosciamo Già A memoria Vero I pronomi Diretti E quelli Indiretti Allora Pronomi Indiretti 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 Ah per Io Per la prima persona Che pronome Usiamo Indiretto Mi Indiretti Indiretto mi E diretto Mi E lo stesso Per la seconda persona singolare Lo stesso I Ti Ti E ti Ma qua cambia Prima Terza persona Singolare Maschile Aspetta Terza persona Singolare Maschile Indiretto Li Si Si Li 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 E terza persona Femminile Singolare Degli indiretti Le Le Invece I diretti Maschile Lo Lo E femminile La La Perfetto Per noi Per la prima Persona plurale C C C E C Per la seconda persona plurale B B B B E E Per la Terza persona plurale Maschile Lo stesso Li E Gli Esatto Indiretti E gli Gli E lo stesso Maschile Femminile Invece Quelli diretti No Maschile Li Li E femminile Le Le Allora ricordate sempre che quelli che cambiano Sono solamente Quelli della terza persona La prima e la seconda Singolare E plurale Sono sempre uguali Tanto diretti come indiretti Non c'è bisogno che scrivete Questo l'avete scritto 40 volte L'abbiamo scritto Tre settimane fa Allora Andate un po' indietro Andate un po' indietro Con il quaderno Non c'è bisogno di scrivere C'è una forma Una forma Di imparare Escrivendo ma Si Lo ho scritto Molti volte Ancora Non mi ricordo Tutti Io Tampi Moriremo Escriviendo 16 De agosto 16 De agosto Pasamo Esto Esatto Sì Che lo che è Sagosto Come? Che è Sagosto Ok Allora Stava annulato Adesso Faremo Vedremo le combinazioni Dei pronomi Ok Allora Cominciamo Con il pronome Mi Il pronome Mi Più Un altro pronome Direto Diventa sempre Me Per quello io dico Me Li Presterà Quel mi Diventa Me Quando va Accompagnato Di un altro pronome Di un altro pronome E invece Il pronome Si Più un altro pronome Diretto Diventerà Te Quello Lo dice Lui Se vedete come Praticamente Noi usiamo Che cosa Più che il chi Il pronome Che accompagna Questo Praticamente Sempre un Lo La Li Le Strano Trovare Un pronome Diretto Nel secondo Posto Che non sia Della terza Persona No Allora Melo Melà Melì Melè Telo Tela Teli Tele Bene Ok Allora Fino adesso Più o meno Semplice Il problema Comincia Con la terza Persona Perché Perché per esempio A lui Abbiamo detto Che Gli E a lei E le Che cosa Succede Con il gli E con il le Quando abbiamo Il gli Con un pronome Diretto Diventa gli Aggiungiamo Una e Gli E il pronome Diretto Direttamente Per esempio Esatto Gielo Giela Gieli Giela Gielo Diventiamo Una Diventa Una sola parola Gieli Giela Giela Allora Se io dico E Io Racconto Il film A Mario Come diventa Questa frase Con pronomi Gielo Gielo Però La frase Completa Ho bisogno Di una frase Completa Gielo Racconto Racconto Ecco Gielo Racconto Non posso Ripetere Il film Perché Il film Sarebbe Il nostro Lo Non posso Ripetere A Mario Perché Perché a Mario E a lui Questo Gli è Il io Lo possiamo Anche cancellare Allora Gli è Lo racconto Super E che cosa Succede Con il A lei Il le Succede Che Si comporta Come Il A lui Allora Esattamente Uguale Gli è Gli è Gli è Gli è Lo Gli è La Gli è Gli è La Gli è Le Scusate Allora Io posso Dire Praticamente Lo stesso Invece Di Racconto Il film A Mario Io dico Racconto Il film Ad Antonella Come Come Si farebbe Con Un pronome Combinato Questa frase Gli è La Racconto No Perché Gli è La Gli è Gli è Gli è Gli è Gli è Gli è Perché a lui O a lei Gli è Ma il film È sempre Lo Si Allora Vedete Che Adesso Se è A lui O a lei Non cambia Niente Da una parte Semplice Dall'altra Uff Quando vediamo Questo Gli è Non sappiamo Se è a lui O a lei Abbiamo bisogno Di Contesto Bene Io Non posso Dicire Se lo Racconto No Perché Se lo È in Spagnolo In Italiano È Exactamente Lo stesso Se lo Se lo Cuento Vero In Spagnolo Se lo Cuento Se lo Cuento In Italiano È Gli è Lo Racconto Io L'ho Huviera Diccio Se lo Racconto No Occhio Con lo Españolo Occhio Con lo Españolo Non Existe Il Celo No In Es Un Caso È Lielo Liela Sare Per In Españolo Sela Lieli Celos Liele Celas Ok Lieli Bene Allora Abbiamo Il Mi Il Ti Il Gli E Le Adesso Che cosa Succede Con il Ci Più Un pronome Diretto Succede Che Diventa C'è E io Dico Che Bello Che bella La tua Penna Ce la presti Allora Sarebbe Tu Presti La tua Penna A noi E' un Buon Esercizio Quello Occhio Quando Non Vedrete Che Alcune Volte Sarà Difficile Capire Una Frase Allora Che Facciamo Noi Con La Frase La Mettiamo Nella forma Più Lunga Possibile Per capire Che cosa Significa Ogni Pronome Allora Io dico Ce la presti Quello Significa Che bella La tua Penna Presti A noi La Penna Allora A noi E' il C'è Diventa Che E La penna Diventa La Molte volte Sarà Una buona Idea Fare Questo Esercizio Per capire Bene Di che Cosa Stiamo Parlando Sì Bene Continuiamo Con il Vi Per Voi A voi Il Vi Più Un Pronome Diretto Diventa Ve Diventa Io dico Per esempio Questa Canzone Questa Canzone Se la Posso Cantare Io Che cosa La canzone A chi A voi Grazie Ok, e manca solo l'ultimo pronome, che era a loro, e a loro è come a lui, gli. Quindi, allora, così come a lui, a loro è lo stesso, gli più un pronome diretto, e gli è più il pronome, glielo, gliela, glieli, gliele, è uguale. Allora, se io dico, racconto il film a Mario e a Antonella, adesso non è a lui né a lei, ma a loro, come rimane questa frase con pronomi? Gliele, glieli, 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 perché glieli? Perché è a due, a l'ie, a loro, vero? Però a loro è la parte del l'ie, ma che cosa racconto? Il film, quindi è un l'ie e io. L'ie lo racconto. Se non ho contesto, può essere a lui, a lei o a loro. Però il che cosa è sempre lo stesso, dobbiamo ricordare sempre che il che cosa è il nostro pronome diretto. Per quello abbiamo fatto tutto questo ripasso per dei complementi diretti e indiretti, perché in questo momento deve essere chiarissimo che cosa è un complemento diretto e che cosa è un complemento indiretto. Se no, sarà un casino, sarà difficilissimo. Il film. È sempre il film, è sempre glieli per a loro, ma l'ho per il film. Mario ed Antonella è a loro. A loro. E Antonella a loro. Racconto a loro il film. Racconto a loro il film. Racconto a loro il film. Questo nel spagnol seria se los cuento. Esatto. Adesso invio. Vi posso inviare tutto questo. Il film è un'idea molto molto intelligente, sempre. Per imparare le lingue, i colori servono molto, però, occhio, usare i colori serve se noi diamo un significato a ogni colore e lo manteniamo sempre. Per assoziare. Esatto. Per esempio, con il tedesco. Con il tedesco, questo è dal primo giorno che uno impara tedesco, deve imparare questo, dei pronomi diretti e indiretti. E quando ti insegnano e tu quando impari, ti fanno capire che il colore verde è per i pronomi diretti. Allora, sempre che abbiamo qualcosa, un complemento diretto, un pronome diretto, usiamo il verde. Invece, il pronome indiretto, te lo insegnano con il arancione. Allora, uno usa sempre verde per i diretti e arancione per l'indiretto. Ma sempre, dal primo giorno. Allora, poi io vedo il verde e automaticamente so che è un pronome o un complemento diretto. Allora, l'idea è corretta, quella dei colori è correttissima, però devi essere molto specifica a usare sempre gli stessi colori per le stesse cose. Bene. Eccellente. Vi invio, guardate, su WhatsApp vi ho inviato tutto questo. Grazie. Prego. Grazie. Ok, allora, andiamo al libro e dice, avete notato come si trasformano i pronomi indiretti quando si uniscono quelli diretti? Bene, allora, completiamo la tabella che non si capisce molto in realtà, perché tutto è senza spazi. Aspettatevi un secondo. Ok. Aspettatevi un secondo. Ok, vediamo se riuscite. Ho un Word. No, ma neanche con il Word. Vediamo, proviamo. Se no, lo facciamo così. Ok. Grazie. 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 grazie tranquilli dobbiamo fare moltissimi esercizi non vi preoccupate ok allora questi sono gli stessi esempi del libro allora cominciamo con il mi sì Anna Maria leggimi le due frasi per favore Eva mi dai un attimo il tuo dizionario me lo dai un attimo esatto allora mi lo me lo me lo dai un attimo super dopo Anna Maria c'è oh Godiva non c'è Calù sì ti devo portare la rivista stasera ti la devo dice qua ti più le stiamo parlando di a te le riviste allora come come diventa ti più le te come te 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 la te la perché la perché la rivista la rivista le riviste le riviste e poi ti dice il libro ti sta dicendo proprio che devi usare il pronome le ti le ti le non esiste ti le come diventa ti con un altro pronome te te e poi te le ecco te le devo portare stasera occhio non è semplicemente cambiare il primo pronome ah già perfetto non dobbiamo fare nient'altro solo cambiare il primo pronome il ti per un te non è ti le ma tele arnaldo presterò presterò a lui il mio motorino gli 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 lo presterò esatto allora gli più lo gli lo gli lo presterò gli lo presterò super cos'è la prossima chiederò a Elena gli appunti le più lì ma questo sta sta fatto è fatto sì 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 gli gli chiederò gli gli chiederò sono gli esempi del libro solo alcuni sono da finire sono solo da leggere gli gli chiederò le più lì gli gli datemi un secondo patricia ecco ci puoi raccontare la trama del film ce la puoi raccontare perfetto ci puoi raccontare la trama del film questo sarebbe a noi ci più la la trama del film ce la puoi raccontare super ecco è un po' disordinato adesso ok Roberto vi 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 consiglio il tirame su ve lo consiglio perfetto ve lo consiglio vi più lo ve lo cambia solo il vi per un ve super ah c'è uno nuovo ah c'è c'è uno nuovo c'è c'è nuovo c'è uno nuovo ok Anna Maria leggimi questo per favore a Gianna e Luca regalerò questi libri esatto a loro i libri gli li regalerò bene ecco abbiamo un altro nuovo che non avevamo parlato l'u leggimi questo per favore professore le faccio vedere la foto e gliele faccio vedere perfetto allora noi abbiamo parlato di a lei a lei normale una ragazza terza persona femminile ma qua abbiamo il a lei formale che funziona ovviamente nello stesso modo è un le che diventa gli ovviamente quando lo usiamo lo usiamo sempre con maiuscola perché come lei formale è sempre con maiuscola e qua abbiamo quello nuovo che diceva Roberto ok ovviamente funziona anche con il pronome ne il ne ricordiamo lo usiamo per esempio quando parliamo di quantità ma usiamo il ne anche quando parliamo per esempio di quello di quello che hai detto di tutto quello esatto allora mi puoi parlare dei tuoi progetti mi puoi parlare di quello a me ovviamente allora direi semplicemente come abbiamo detto il mi diventa me me ne puoi parlare in questo caso questo sì che il ne delle quantità ok Arnaldo leggimi questa per favore gli darò due copie del libro gli darò due copie copie esatto gli darò due copie del libro e quasi che sarebbe il nostro ne delle quantità perché io dico gli darò due copie ovviamente ovviamente il ne è sempre il nostro pronome complicato perché in spagnolo non lo usiamo e non usiamo niente di simile bene facciamo la pausa facciamo la pausa sì tornare al libro allora dice come vedete i pronomi indiretti alla terza persona gli le e le formale si uniscono al pronomato e con l'aggiunta di una e formano con esso una sola parola allora è gli glielo gliela glieli gliele ok faremo esercizi faremo molti esercizi per capirlo bene ok ma prima facciamo la pausa sì scusa se non fosse quantità o di quello la la frase sarebbe come gli altri che abbiamo fatto invece di invece di mi puoi parlare dei tuoi progetti qualche otra frase che non che non incluya che non abbia quantità o di quello come per esempio mi puoi parlare di tua madre di tua madre del progetto e poi quello diventa di quello di quello sì grazie bene allora facciamo la pausa dieci minuti come sempre a raffreddare la testa esatto per riposar vi riposare la testa di Grazie.